E' bello che siamo andati in questo nuovo video per parlare della partita che è appena finita tra Roma e Cagliari Intanto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi perché servono le iscrizioni e commentate, spolliciate e tutto quanto Insomma, il Cagliari che perde 1-0 con la Roma è appunto cosa ottima perché fino alla fine comunque siamo a tagliare la prensione Poi bisognerà vedere due appunto che potrebbero essere disponibili con Lecce penso sicuramente e vedremo poi dopo Perché appunto questa settimana abbiamo giovedì la partita con Lecce Quindi appunto avendo la partita con Lecce appunto probabilmente saranno fuori che sono Pellegrini e Sergio Rivera Che appunto alla fine della partita non stava messo bene quindi Per cui penso che salteranno appunto quella con Lecce Tanto alla fine penso che con Lecce possiamo anche giocare con altri giocatori Alla fine se metti, non lo so, mi pare che Cristante era la spolifica Quindi Cristante e Binance giocheranno e poi si vedrà insomma chi altro far giocare Ecco, probabilmente giocare a Sharawi e poi vedremo insomma Comunque è stata una partita giocata veramente, diciamo forse il primo tempo meglio del secondo tempo Vari episodi dubbi, sicuramente il rigore è quello lì dato che ha segnato Sergio Rivera con grande personalità C'era E gli altri sarebbero da rivedere ma secondo me è giusta la decisione di non darli Comunque troppi, secondo me troppi falli dati un po' così Perché comunque loro si buttavano molto facilmente, soprattutto c'ho Pedro E veramente, veramente devo dire che comunque serviva questa vittoria perché bisogna comunque tornare a vincere E dispiace che appunto Zagnolo non è riuscito a segnare Purtroppo però, vabbè Quello lui si deve, cioè lui forse non è ancora troppo tranquillo mentalmente su questa cosa E quindi magari sbaglia un po' troppo però Poi lui Patrizio ci ha salvato più volte Considerando che comunque ha fatto una paratona che poi è andata sulla traversa, verso la fine E poi ha recuperato una palla che praticamente stava in mezzo all'area E poi vabbè c'era qualche altra azione però C'era un'altra azione dopo la sua grandissima parata però Appunto era in Stava in fuorigioco il Cagliari quindi ci siamo salvati Sicuramente il secondo tempo non è stato giocato bene Karzorp non mi è piaciuto per niente Sicuramente quando è entrato non mi è piaciuto nemmeno Shomuro Perché secondo me non capisco sinceramente questa sua cosa di giocare così male L'anno scorso era comunque un giocatore bello, forte, interessante Quest'anno non mi sta proprio piacendo E niente quindi Speriamo che si possa riprendere Vigna ha fatto la sua partita un po' così da 6 Per il resto Pure Mkhitaryan se deve dare un po' una svegliata Devono cercare di giocare un po' meglio E vabbè chiaramente pellegrini vedremo insomma quanto starà fuori Pure Oliveira speriamo che Non sia nulla di grave Che già alla prossima possono tornare E basta che altro Niente Niente Tre punti d'oro Tre punti d'oro che dovevamo comunque portare a casa E per riportarci appunto dovremmo stare ora sesti Vediamo un attimo Sì siamo sesti a 35 punti Appare della Lazzietta Però c'è appunto la Fiorentina che ha due partite in meno Una che giocherà domani e l'altra si vedrà Ora noi stiamo a meno 6 Dalla Juve E meno 6 pure dall'Atalanta Però l'Atalanta ha sempre due parti in meno Quindi è difficile Fatemi sapere voi cosa ne pensate Commentate, spolliciate, iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Bella